Ciao a tutti, quest'oggi parleremo della nuova chat presente sul sito Tessiland. Una chat del tutto nuova, funzionale, semplice da utilizzare, rapida e soprattutto attiva 24 ore su 24. Esattamente perché proprio grazie ad un algoritmo che è il risultato di studi fatti proprio nel nostro servizio di assistenza siamo riusciti ad estrapolare quelle che sono le domande più richieste, quindi le relative risposte. Ma vediamo subito nel dettaglio come compare questa chat e quali sono i primi tre punti che appunto visualizzeremo. Partiamo quindi ovviamente dal nostro sito, vale a dire www.tessiland.com Vi basterà cliccare su chatta con noi e in automatico si apriranno i primi tre punti info per fare un acquisto, info post vendita, altre curiosità da cui poi si apriranno una serie di percorsi che vi guideranno e vi aiuteranno a rispondere alle domande più poste in base ai tre argomenti. Potrete quindi contattarci in qualsiasi momento, che sia mezzanotte o che siano le 5 del mattino l'assistenza Tessiland sarà sempre pronta a rispondere alle vostre domande. Vediamolo allora, un percorso vero e proprio e poniamo una delle domande che più ci arriva in assistenza, vale a dire dov'è il mio ordine. Per saperlo iniziamo dal punto info post vendita. Cliccate quindi sul secondo punto e in automatico vi arriverà questa prima risposta. Quale informazione ti serve conoscere? Stato dell'ordine, cerco il tracking, ho sbagliato ad ordinare, ho ricevuto ma ho un problema. Mettiamo per ipotesi che l'ordine sia stato già concluso e che quindi vogliate adesso sapere quella che è la tracciabilità. Cliccate quindi su cerco il tracking, munitevi ovviamente del numero dell'ordine perché la domanda successiva è appunto proprio questa. Ponete il vostro ordine e come vedrete nel giro di pochissimi secondi il sistema vi invierà subito la tracciabilità del vostro ordine. Ma qualora la risposta che state cercando non rientra tra quelle già impostate nell'algoritmo oppure se avete bisogno di porre una richiesta speciale o semplicemente se avete bisogno di una personal shopper non ci sono problemi, potete contattarci direttamente a noi dell'assistenza dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 oppure il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Come? Guardiamolo! Continuate quindi la vostra conversazione e cliccate su no vorrei assistenza. Subito un operatore vi risponderà e vi chiederà appunto come potervi essere utile. Da questo momento in poi potrete porre e personalizzare quella che è la vostra richiesta. Ma vediamo anche tutti gli altri servizi che ci offre proprio questa chat. Cliccando su questa freccia in alto a destra si aprirà un nuovo schermo che possiamo definire covisore. Perché covisore? Perché questo schermo vi permetterà di condividere appunto questa facciata con la persona con il quale state chattando. In questo modo potrete vedere insieme l'articolo che state visualizzando e allo stesso tempo anche l'assistenza potrà mostrarvi un articolo. Mettiamo per ipotesi che vogliate vedere ad esempio il SuperTai Beige. L'assistenza in questo modo potrà mostrarvi direttamente l'articolo che state cercando. Potrete quindi insieme visualizzarlo nel dettaglio, potrete sia voi che l'assistenza grazie a questa pratica matita anche segnalare il colore, insomma ciò che volete. Potrete vedere anche nel dettaglio grazie a questa pratica lente di ingrandimento il prodotto che state visualizzando. Potrete però anche usufruire di altri servizi, quale ad esempio vedere il prodotto nel dettaglio cliccando qui proprio su Vedi prodotto. In automatico verrete mandati sulla pagina del prodotto che state cercando e quindi ovviamente potrete aggiungere direttamente al carrello l'articolo che state visualizzando. Ma ci sono anche altri servizi. Qui ovviamente potrete vedere anche gli articoli che state vedendo. My List, quindi se ad esempio vedete un articolo che volete conservare in una lista per magari un acquisto futuro potrete farlo cliccando qui su questo cuore. Oppure potrete comunque sempre tenere d'occhio il carrello e gli articoli inseriti all'interno. Una volta terminato l'ordine potrete anche procedere direttamente al checkout cliccando qui e quindi concludendo semplicemente l'ordine. Nella chat ovviamente potrete scrivere ciò che vorrete, apporre degli smile oppure anche allegare delle foto per mostrare ad esempio ciò che vorreste realizzare in modo tale da avere delle indicazioni più precise cliccando qui su questa graffetta e quindi allegando poi ciò che preferite. E non è tutto, cliccando su queste tre linee poste qui in alto e inserendo il vostro indirizzo mail vi sarà possibile inviare il riepilogo di tutta la chat proprio al vostro indirizzo mail in modo tale che non possiate perdere la conversazione e soprattutto gli articoli che avete richiesto e le indicazioni che vi sono state date. Una volta conclusa la vostra chat potrete cliccare sul pollice in su qualora vi fosse piaciuta o un pollice in giù qualora il giudizio fosse negativo. Potrete chiudere la chat in qualsiasi momento cliccando semplicemente qui su questa X riduci la chat. e continuare serenamente la vostra navigazione. Come avete visto una chat davvero funzionale, pratica, semplice da utilizzare pronta a rispondere alle vostre richieste in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo. Molto più esaustiva e ovviamente come sempre pensata apposta per voi direttamente da Tessiland. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le novità Tessiland e noi ci vediamo al prossimo news. Ciao!